Vedete questo? Questo è un blocco notes, questo è un blocco notes, questi sono appunti, pieno di appunti. Prima vi ho detto che mi serviva qualche ora ancora per capire la situazione di Palermo, guardate, capelli dritti, pochi peli che ho in testa. In realtà mi ci muoiono dei giorni, perché è tutto pieno solo di appunti di gente che mi raccontava quello che succedeva. Poi qua c'ho uno smartphone e qua ci sono pieno, 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 zeppo, non finisco più di leggere foto, documenti, c'è di tutto. Ragazzi ci vuole un po' di pazienza, ci vuole un libro, un film, un documentario, una docufiction per parlare della situazione della Croce Rossa di Palermo, c'è di tutto, contratti, non si capiscono, denunce, ricorsi vinti, sale operative che sono delle stanzette, voucher, partite IVA, gente che va via, incidenti all'aeroporto di personale della Croce Rossa che scopre di non essere coperto dall'assicurazione, macchine concesse per gli spostamenti di servizio con freni rotti, panda scassate, c'è di tutto nei racconti che sto ricevendo. Guardate, manca solo Parentopoli, poi se arriva Parentopoli c'è proprio tutto come metafora di una situazione, ma che dico da Prima Repubblica, ma non lo so da cosa, ecco, manca solo Parentopoli, poi siamo a posto, mezzi comprati, mezzi non comprati, non si capisce, ecco, racconti dettagliatissimi da persone che purtroppo per loro stanno ancora adesso un po' intimorite, quindi chiedono l'anonimato, ma però non si dice, è scorretto, però sono tante, tantissime, è tutto il giorno, oggi sarebbe festa, no? È tutto il giorno che parlo con personale, ex personale della Croce Rossa di Palermo, poveretti, mi dispiace. Speriamo di portare a galla un po' di roba.